Allora, oggi ho deciso di farmi qualche nemico in più. Volevo dire a tutti che il mio lavoro non è un lavoro creativo. Ecco, questo già basterebbe per avere uno stuolo di nemici pronti a massacrarmi, ma quello che intendo è questo. Il visual merchandising è una disciplina e di fatto è allestimento strategico che aiuta a implementare le vendite, quindi certo c'è una parte, una componente artistica, c'è una parte di creatività necessaria e tutto il resto, ma spesso mi trovo ad avere a che fare con negozianti che non hanno neanche capito che tipo di strada hanno davanti, su che tipo di strada si affacciano, qual è il loro target, che lingua parlare, che messaggio dare, e fanno una confusione estrema occupandosi principalmente di quello che è tutto scenografico. Non serve niente, non serve niente essere scenografici se non si ha chiaro qual è il messaggio, qual è la strada, che tipo di negozio abbiamo, che tipo di target abbiamo, che lingua parla. Se non abbiamo questi elementi fondamentali dalla nostra parte, la creatività è inutile e questo va detto, non lo dice mai nessuno. Mi trovo spesso ad avere a che fare con persone che dicono wow, fai un lavoro creativo perché è quello che riescono a figurarsi e semplicemente vedere queste meravigliose vetrine come quelle di Natale o della Rinascente che sono appunto magiche e lasciano tutti a bocca aperta e per carità vogliamo tutti fare quel tipo di cosa, però non basta se non si ha poi la conoscenza di qual è la propria realtà. Allora, dopo aver raccolto un po' di odio da parte dei miei colleghi e di qualche negoziante che punta tutto sulla creatività, vi faccio vedere che cosa intendo. Nel post di oggi che trovate nei feed o semplicemente scorrendo in alto con il dito, ho messo la vetrina di Louis Vuitton. Louis Vuitton ha recentemente cambiato il suo direttore artistico, qualcuno di voi lo conosce, è Vergila Blo, se seguite i trend del fashion sapete chi è, che tipo di personaggio è, comunque non è questo il punto. Quello che voglio farvi vedere è che quella è una vetrina estremamente creativa, ovvero all'interno della vetrina ci sono delle statue, create in dimensione naturale o per alcuni punti vendita proprio create in una maniera gigantesca, che attirano tantissimo l'attenzione, ma non è presente il prodotto effettivo, ovvero il modello indossa nel suo calco di gesso quello che aveva in sfilata. Benissimo, perfetto, attirano l'attenzione e funzionano, però ricordiamoci che noi non siamo Louis Vuitton, noi non siamo i grandi marchi. Se abbiamo un negozio che è un negozio indipendente, che ha uno o due punti vendita all'interno della nostra città, non possiamo permetterci di fare una cosa del genere, non ancora. Capiamo prima quali sono le basi fondamentali, ovvero su che strada siamo, che tipo di target abbiamo, che linguaggio parla il nostro target, che cosa vuole, che cosa si è a posto di oggi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ciao! Aspetta, una volta che abbiamo fatto tutta la parte base, quella che sembra più noiosa o semplice, ma che è quella che di fatto vi porta...